è ricordato come il papa buono date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del papa amava stare tra la gente e talvolta si sentiva prigioniero dentro le mura vaticane i gendarmi pontifici preoccupati avevano perso il papa l'amore della gente era sterminato per lui, sterminata 9 racconta i grandi papi Giovanni XXIII giovedì alle 21 e 25 sul 9